ciao vecchi siamo qui oggi per informarvi che abbiamo riassortito Pioneer in negozio finalmente dopo probabilmente sei lunghissimi mesi grazie Pioneer e una novità finalmente sono arrivate le REV1 la versione portatile della della nuova REV7 che è qua dietro che è questa? sono i nuovi controller Pioneer per indirizzate diciamo indirizzate indirizzate alle nuove generazioni quindi a chi piace fare musica hip hop trap e e dove 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 cavalli musica ma accastrezzato accastrezzato se venite sabato di sabato troverete anche me ve la posso far provare posso togliervi ogni dubbio ogni dubbio ma noi possiamo andare avanti sai puoi anche spiegarci cosa è arrivato nel senso che tutto questo è nuovo tutti questi sono prodotti già già in commercio ma sono tutti imballati o tu ce li puoi far vedere quando io sono interessato vengo sono interessato e me li fai vedere però dovete venire di sabato ah ok di sabato io vi apro le scatole vi attacco e ci facciamo quattro chiacchiere se vi interessa sapere qualcosa di più bella sta bene quindi questo tra l'altro è il famoso muovere parte dj che si sta sempre ampliando sempre di più ecco è ancora però agli inizi agli inizi perché manca ancora del materiale le spedizioni fanno fatica ad arrivare sono tornati gli X1 43 dell'Alemite Allemite è un'altra azienda che sta facendo fatica sempre chiusi nella scatola però perché c'è la gente vorrebbe vederli insomma cos'è che noi gli possiamo dire perché la gente vuole vederli poi li vuole toccare ma poi dopo li vuole nella scatola giusto giusto perché io io lo voglio toccare ma poi però me lo dai nella scatola allora questa cosa si risolve in una maniera finite di sabato da cavalli musica quando ci sono io e vi darò proprio quello che aprirò per voi ma è fantastico grazie Valentino a presto buon weekend ciao